Il cardinale George Pell, il più alto prelato cattolico australiano, prefetto agli affari economici della Chiesa dal 2014, è stato incriminato per reati sessuali risalenti a decenni fa. Pell è il più alto rappresentante vaticano mai coinvolto in casi di pedofilia. Gli avvisi di reato sono stati notificati oggi dalla Polizia dello Stato australiano di Victoria. Il cardinale dovrà comparire presso la Magistrat Kurt il prossimo 18 luglio. Nel dare l'annuncio il commissario di polizia Sean Patton ha precisato che come qualunque altro indagato il cardinale ha diritto a un giusto processo che si svolga senza ostacoli e col naturale decorso della giustizia nel rispetto di tutte le parti in causa. Le accuse riguardano più querelanti che riferiscono reati commessi negli anni 70 a Bayarat, città nativa di Pell. In una recente intervista da Roma a una tv australiana gli era stata menzionata la possibilità di essere incriminato e il cardinale ha riaffermato la sua innocenza ribadendo quanto già dichiarato agli inquirenti.